Forte senso di appartenenza alla comunità e ai valori della nostra Costituzione. Quest'anno più che mai, precisa il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, le onorificenze dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana vanno in questa direzione. Quest'anno ancora di più ha importanza il senso di appartenenza alla comunità, il senso di appartenenza al nostro Paese, i valori della nostra Costituzione, che sono quelli che appunto vengono valorizzati con la concessione dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Soprattutto il valore della solidarietà inteso in senso ampio, andare oltre quelli che sono i limiti dei propri diritti e propri doveri, cercare di fare quello sforzo ulteriore sulla base del quale una comunità cresce. La cerimonia si è svolta questa mattina in Prefettura. Il prestigioso riconoscimento di Cavaliere è stato concesso a nove cittadini benemeriti del capoluogo e della provincia che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 o nel corso della carriera professionale o militare. Ecco i premiati. Antonio Cardone, sottotenente del Corpo della Guardia di Finanza, residente a Pescara. Leonardo Cursio, appuntato, scelto dell'Arma dei Carabinieri, residente a Manopello, in provincia di Pescara. Nicola Diciocco, maggiore dell'Arma dei Carabinieri, residente a Pescara. Giuseppe Giancola, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, residente a Montesilvano. Carla Leone, coordinatrice della Croce Angolana Onlus, residente a Città Sant'Angelo. Lea Marani, infermiera professionale, residente a Cepagatti, provincia di Pescara. Donato Schiavone, pensionato, attualmente presidente della sezione della protezione civile Modavi di Città Sant'Angelo, residente a Città Sant'Angelo. Lino Silveri, maresciallo scelto dell'Auronatica Militare in Quescenza, residente a Pescara. Angelo Tarquini, dipendente del Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo, residente a Pescara.